l'autoclave sia flow kit docino le due guarnizioni e il docino come potrete notare la pompa ha questo simboletto con la freccia che sta a indicare la direzione d'uscita del liquido mentre questa sarà l'ingresso ora ci raccordiamo l'autoclave prendiamo la guarnizione alimentiamo l'autoclave essendo un autoclave autodescante provvederà lì a estare l'acqua il docino è dotato di una leva per fare un po' l'intermittenza o la modalità grazie a tutti grazie a tutti